Deserta anche la seconda asta per la vendita del centro sportivo di Orsenigo. La scadenza per presentare le offerte era fissata per questa mattina alle 11 e non è arrivata alcuna busta. La base d'asta era fissata a 1.425.000 euro, il 25% in meno rispetto al primo tentativo di vendita. La terza asta sarà con ogni probabilità il prossimo 16 aprile. C'erano state alcune manifestazioni di interesse, avevamo accompagnato diverse persone a visionare l'area e questo ci aveva fatto sperare in qualche offerta, dice Giulia Custerla, curatore fallimentare della S3C, società che nel 2014 aveva acquistato il centro sportivo. Non è andata così, ma queste premesse ci fanno ben sperare per la prossima asta. Il curatore fallimentare chiederà al giudice Alessandro Petronzi di fissare una nuova asta per il prossimo 16 aprile con un ulteriore ribasso del 25%. La base d'asta sarà fissata a 1.060.000 euro, con offerta minima 795.000 euro. Il centro sportivo Mario Beretta di Orsenigo era la storica sede degli allenamenti del calcio Como. La prima asta per la vendita era partita da 1.900.000 euro. La struttura era stata acquistata nel 2014 dalla S3C, società che deteneva il 99% delle quote del fallito calcio Como. Dopo la dichiarazione di fallimento della stessa S3C, un anno fa era iniziato l'iter per la vendita del campo di allenamento.